buongiorno grazie dell'invito grazie della presentazione al compito mio è quello di farvi una panoramica di quello che succede nelle terapie intensive e intanto partirei dicendo quali sono i pazienti covid che vengono ammessi nelle nostre terapie intensive quindi i pazienti più critici e poi quale è la gestione di questi pazienti i pazienti che arrivano in terapia intensiva sono anche nella nostra azienda circa il 10 per cento dei ricoverati sono pazienti che hanno delle caratteristiche specifiche spesso un'età media intorno ai 70 anni almeno nella nostra popolazione ma anche in letteratura non hanno particolari comorbidità se non obesità sembra più frequente e alcune problematiche cardiovascolari eventualmente di bpco sono pazienti che all'ingresso hanno una importante compromissione dell'ossigenazione e un quadro toracico già profondamente impegnato da una polmonite spesso bilaterale spesso sono pazienti anche che si sovra infettano subito alla missione o lo sono già e come va qual è la fine che fanno questi pazienti qual è il loro outcome purtroppo la mortalità in terapia intensiva è piuttosto elevata può arrivare ad essere anche del 50 per cento in alcune casistiche in alcuni periodi soprattutto indipendentemente da quest'alta mortalità l'altro problema importante è la lunga durata della decenza in terapia intensiva che fa sì che il turnover dei pazienti sia piuttosto lento e questo ci tra virgolette in tasa un po e che rende più difficile poi la collocazione di questi pazienti nelle fasi intense di ondata intensa l'assistenza respiratoria è quella che catalizza di più le risorse perché l'apparato respiratorio è il principale organo disfunzionante quando arrivano in terapia intensiva seguito poi da altre problematiche in cui le sepsi sono sicuramente le complicanze più frequenti e qual è la gestione la gestione si può dividere in due grossi capitoli il supporto quello che è il supporto respiratorio e quello che è il supporto extra respiratorio e lascerei a parte il capitolo sepsi perché prevederebbe una relazione a sé stante e parlo non a caso di supporto perché come sapete quando arriviamo poi in terapia intensiva nel paziente estremamente critico non ci sono ancora delle terapie specifiche per questa patologia ma quello che facciamo facciamo una terapia soprattutto di supporto che dia il tempo a quello che abbiamo iniziato di funzionare e al polmone soprattutto di recuperare così con gli altri organi uno dei pochi farmaci che trova un'indicazione importante anche in questo tipo di pazienti sarete tutti ormai il cortisone cortisone che ha avuto delle buoni risultati provando varie molecole a vari dosaggi con varie posologie e tuttora però anche qui un punto finale su quale sia il corretto utilizzo di questo farmaco ancora probabilmente è ancora in fase di studio sostanzialmente ma tornando al nostro paziente che arriva in terapia intensiva di solito sono pazienti che dal punto di vista respiratorio sono già molto dicevamo compromessi hanno già fatto molti dei degli step di assistenza siamo partiti probabilmente dall'ossigenoterapia alti flussi in alcuni casi hanno già iniziato spesso hanno già fatto dei periodi anche piuttosto lunghi di assistenza non invasiva soprattutto con i caschi chip up quando arrivano a rianimazione è perché siamo arrivati al punto in cui questo non è più sufficiente e molto probabilmente dopo un altro eventuale tentativo con un casco chip up è il momento di ricorrere all'intubazione orotracheale e di far riposare un po il paziente e cercare di ossigenarlo al meglio una manovra che facciamo rutinariamente nella vita da anestesisti rianimatori e che in questo caso è un po più complessa occorre fare un po più attenzione per il rischio di contaminazione e ovviamente per tutti i dpi che utilizziamo e la si suggerisce spesso di fare con dei presidi che ci permettano come in questo caso un videolaringoscopio di eseguire la manovra di visualizzazione del glottide del piano delle corde vocali senza dover per forza avvicinarsi troppo al paziente e fare una manovra più sicura più semplice e quindi da un risultato sicuramente più risultato migliore una volta eseguita questa manovra iniziamo a ventilare il paziente in maniera artificiale con delle macchine nostri respiratori respiratori che dovranno essere impostati e inizierà da ora un viaggio che prevede una fase iniziale di decollo della nostra terapia ventilatoria il raggiungimento di alcuni parametri in una fase di stabilizzazione che poi stabilizzazione non lo è mai perché questi pazienti ci hanno insegnato che spesso cambiano le loro caratteristiche in corso d'opera e a fronte di apparenti iniziali miglioramenti rapidamente poi spesso per colpa di sovrainfezione o per l'evoluzione della manattia stessa si va incontro di nuovo a peggioramenti con un andamento ciclico fino a arrivare finalmente nella speranza che tutto vada per il migliore diversi nella fase di winning e quindi di riduzione del supporto ventilatorio fino a liberarsi di questo e all'estupazione indipendentemente dalle ricette iniziali molto tecniche anche se semplici per per gli addetti al lavoro con i quali mi scuso quello che occorre capire che col ventilatore noi cerchiamo di raggiungere dei parametri target che il paziente da solo non riusciva più ad avere o riusciva ad avere a costo di una spesa eccessiva di energia e consideriamo anche soltanto l'ossigenazione un po' come se noi volessimo con le nostre macchine raggiungere una velocità di crociera facciamo fin tra la saturazione sia la velocità di crociera dei 100 chilometri all'ora 100 per cento di saturazione e il segreto per non far danni quello che vogliamo con la nostra macchina con il nostro respiratore è quello di utilizzare il minore carburante possibile laddove il carburante in questo caso è la quantità di ossigeno che diamo e le pressioni con cui dobbiamo soffiare l'area all'interno dei polmoni quindi voglio andare al cento per cento al cento chilometri vari consumando meno minor quantità di ossigeno possibile e minor pressione possibile di insufflazione di aria e non tutti i polmoni sono uguali didatticamente ma poi quello che troviamo nella realtà dei nostri pazienti e in maniera diversa spesso da quella che sono le gravi forme di insufficienza respiratoria a cui noi siamo abituati i polmoni dei pazienti covid si presentano divisi in due famiglie fondamentali le famiglie in cui il polmone appare da subito un polmone morbido che si gonfia facilmente che in cui non duriamo fatica a fare entrare aria ma che comunque è associata a una grave possia probabilmente per un problema più legato alla perfusione di quello di quell'organo probabilmente per aspetti microtrombotici o di altra natura e polmoni invece più più tipici delle forme di grave insufficienza respiratoria che sono i polmoni molto duri e con una bassissima compliance che vuol dire che la spesa in termini di pressione per fare entrare aria in quei polmoni è veramente elevata e questo spesso rende difficile proseguire la nostra terapia ventilatoria se non a fronte di pagare degli ulteriori danni che possiamo noi stessi a questo punto fare a questo polmone e va considerato anche che i polmoni possono la tipologia del polmone che ci troviamo a ventilare può evolvere possiamo trovarci inizialmente di fronte a un polmone apparentemente morbido e semplice da ventilare che col tempo per il progredire delle malattie o per i danni dovuti alla ventilazione stessa sul polmone può evolvere una fase di polmone più rigido polmone meno compiante che associato poi anche a una peggiore evoluzione quindi il nostro obiettivo ventilare questi polmoni raggiungendo il nostro 100 km orari 100 per cento di saturazione quando non riusciamo a farlo o iniziamo a consumare troppa benzina troppo ossigeno o spendiamo troppa pressione dobbiamo ricorrere a quelle che sono dei rescue strategies ovvero delle strategie che ci permettono di migliorare l'ossigenazione e ridurre un po le pressioni da di insufflazione per guadagnare sempre tempo per quel quel nostro obiettivo con la ventilazione guadagnare tempo affinché la situazione polmonare piano piano migliori e queste rescue strategies sono di vario tipo e sono strategie sempre più invasive sempre più importanti al diminuire dell'ossigenazione vedete l'ascissa la riduzione dell'ossigenazione associata all'ansieme di manovre successive che ora brevemente elencherò che si possono mettere in atto per cercare di migliorare l'ossigenazione del nostro paziente la prima di queste sono le manovre di reclutamento sono delle periodiche insufflazioni di area a pressioni maggiori allo scopo di reclutare il parentima polmonare gonfiarlo un po un polmone che nel tempo si è tende a collassare un po sotto l'effetto del suo stesso peso quando anche queste non sono sufficienti si può passare a un altro tipo di manovra anche questa intesa spesso come manovra di reclutamento che avrete sicuramente visto e sentito affrontare nelle varie nei vari media nelle varie trasmissioni che è la manovra di pronazione del paziente ovvero qui lo vedete fare da tre operatori in condizioni non covid quindi privi di dpi e già così potete immaginare come è indaginosa la manovra di portare il paziente da una posizione supina una posizione prona stando attenti a non non far danno al paziente in particolar modo non rimuovere device soprattutto il tuo borotracheale che è quello che gli garantisce in questo momento la sopravvivenza ovviamente e allo stesso tempo di non fare altri tipi di danni al paziente durante questa manovra che con i dpi indossando i dpi è ancor più complessa di quello che potete vedere in questo breve filmato la manovra di prono supinazione sostanzialmente migliora il rapporto ventilazione perfusione riduce un po la contenza della gabbia toracica e questo comporta un importante spesso miglioramento dell'ossigenazione dei nostri pazienti e quindi ci permette a noi di guadagnare ancora più tempo per la guarigione quali sono gli effetti che ci piacciono poco della manovra di prono supinazione quali sono i difetti che spesso la risposta a questo miglioramento dell'ossigenazione soltanto transitorio ovvero quando riportiamo il paziente in posizione supina l'ossigenazione si riduce repentinamente talvolta e purtroppo non possiamo tenere sempre il paziente in posizione prona per un problema legato ai decubiti agli edemi e quindi spesso dobbiamo ricorrere a decicli che non possono superare le 12 massimo le 16 ore e ovviamente il paziente è esposto a rischio stando in posizione prona superiori rispetto alla supina e anche eventuali manovre di rianimazione cardiopolmonari prevedono che si debba risupinare rapidamente il paziente con dei ritardi eventuali in una manovra di rianimazione cardiorespiratoria naturalmente si possono ripetere e si ripeteranno fin quando il paziente risponderà in termini di miglioramento dell'ossigenazione alla manovra o fin quando il o finché appunto c'è possibilità di guadagnare tempo e di migliorare la situazione quando anche la manovra di prono supinazione o parallelamente alla manovra di prono supinazione vogliamo avere degli effetti superiori in termini di miglioramento dell'ossigenazione è possibile utilizzare la terapia con ossido nitrico. L'ossido nitrico è un gas del quale la molecola spesso i pazienti COVID sono dei pleti e ha questa molecola importanti effetti sui nostri pazienti ha importanti effetti sia sul versante vascolare in particolar modo determina un effetto vasodilatatorio importante associato anche spesso a un effetto broncodilatatorio e questo garantisce con l'utilizzo di questa terapia un miglior accoppiamento ventilazione perfusione e quindi una migliore ossigenazione in più anche degli effetti antinfiammatori e antitrombotici che per le caratteristiche di base della patologia presente nel COVID naturalmente possono avere un effetto positivo quantomeno un razionale positivo. Tuttavia sebbene ci siano tutti appunto presupposti razionali affinché questa terapia funzioni quando poi l'andiamo ad utilizzare sul campo non tutti i pazienti rispondono qui due studi ad esempio uno in cui ci sono degli ottimi risultati in termini di miglioramento dell'ossigenazione da 80 a 100 mm di mercurio di ossigeno a fronte di un altro studio che vedete qua accanto in cui non c'è assolutamente nessun tipo di miglioramento in termini di ossigenazione tra prima e dopo l'utilizzo di ossido nitrico e questo rispecchia un po' quello che poi vediamo nella realtà clinica che un paziente su due o forse un po' di più rispondono a questa terapia che ovviamente anche in questo caso è soltanto prevalentemente una terapia di supporto. Quando anche queste strategie falliscono purtroppo dobbiamo ricorrere a dei sistemi alternativi di ossigenare il paziente, il respiratore meccanico non è più sufficiente e dobbiamo ricorrere alla circolazione estracorporea. Una piccola fetta di pazienti probabilmente è aumentata nei mesi di pandemia inizialmente fino verso ottobre a più o meno il 5% della popolazione richiede di passare a una circolazione estracorporea, ovvero si posizionano delle cannule prevalentemente negli stretti venosi quindi in vene di grosso calibro come possono essere la femorale, la giugurale o due entrambe le vene femorali e con una pompa si preleva del sangue al paziente, si ossigena, si decapinizza e si restituisce al paziente. Chiaramente questo comporta la necessità di importanti dosi di anticoagulanti, è una terapia sicuramente più rischiosa, si riserva a pazienti veramente gravi tanto che probabilmente la mortalità dei pazienti in assistenza estracorporea almeno inizialmente era molto più elevata rispetto agli altri pazienti proprio perché sono pazienti estremamente più gravi anche se poi vari lavori suggeriscono che questa mortalità può essere molto più simile a quella a cui siamo abituati nei pazienti covid ricoverati in terapia intensiva quando scegliamo un timing di inizio adeguato ovvero quando aspettiamo, quando non aspettiamo troppo tempo dal presentarsi di una situazione di estrema gravità del paziente e questo corrisponde per quel che si vede in letteratura dopo 3, 4, 5 giorni di ventilazione se non riusciamo ad ottenere target che ci eravamo prefissati probabilmente è il momento di iniziare senza perdere tempo l'assistenza estracorporea. Una delle fregature tra virgolette di questi pazienti è che spesso nelle fasi iniziali migliorano molti pazienti migliorano rapidamente ci avviciniamo a quei 14 giorni in cui oltre i quali l'ecmo è sconsigliato e iniziano poi proprio a quel punto a peggiorare e questo ci limita chiaramente le possibilità di utilizzo di questa metodica in una fetta della popolazione. Quindi l'importanza del timing è di darsi dei criteri precisi in modo tale da non lasciare niente al caso, niente di intentato, iniziare più velocemente possibile questo tipo di assistenza quando ci sono le indicazioni. Naturalmente superata la fase iniziale, la fase più più critica arriverà una fase di stabilizzazione del paziente, avremo alti e bassi ma a un certo punto arriveremo a dover decidere se sostituire il tuo borotracheale con una tracheostomia che permette una miglior gestione del paziente e questo avviene quando si prevede delle durate ancora lunghe di assistenza respiratore. La tracheostomia nei pazienti covid come in tutti i pazienti può essere eseguita con due tecniche fondamentali, la tecnica chirurgica che è stata una delle prime utilizzate, la più utilizzata probabilmente all'inizio pandemia perché quella in cui c'è minor rischio di aerosolizzazione e quindi il personale si sentiva inizialmente più tranquillo, poi con i giusti DPI, con le giuste accortezze ci siamo accorti che potevamo fare anche tratte tanto tranquillamente anche le tracheostomie percutane che alla lunga pagano in termini di ridotte complicanze associate alla permanenza tracheostomia stessa, in particolar modo quelle infettive e quelle legate al sanguinamento, con dei timing di intervento che si aggirano tra una e due settimane di ventilazione meccanica anche per poter dimettere il prima possibile dalla rianimazione i pazienti e quindi facilitare in qualche modo il turnover sui letti di terapia intensiva. Accanto a questo grosso capitolo principale di assistenza respiratoria c'è l'assistenza dedicata a tutti gli altri organi perché anche gli altri organi soffrono con questa patologia, non c'è tempo di affrontarli tutti, soltanto alcuni spot sul versante emodinamico, il versante emodinamico che non è stato molto studiato in maniera sistematica in questa patologia per le difficoltà probabilmente e sicuramente nel raccogliere anche i dati durante una pandemia e anche per un po' di confusione legate ai tipi di valutazioni utilizzati, tipi di supporti emodinamici utilizzati e partendo addirittura dalla definizione di shock utilizzata nei vari lavori. Però è chiaro che i due principali, tra i principali fattori che comportano un'instabilità emodinamica di questi pazienti soprattutto nelle fasi iniziali, la sepsi e l'ipovolemia sono i due protagonisti. L'ipovolemia dovuta anche al fatto che spesso questi pazienti sono sottoposti a terapie non invasive con casco C-PAP talvolta per giorni prima di essere intubati, di essere portati in terapia intensiva e naturalmente in queste circostanze alta per spirazio, poca idratazione e quindi anche questo è sufficiente per avere un'importante ipovolemia di questi pazienti che poi contribuisce anche ovviamente all'iposemia. E quindi l'approccio è quello poi che abbiamo negli stati settici, è un approccio di adeguamento della volemia prima di un eventuale supporto cardiovasoattivo. Adeguamento della volemia che a maggior ragione, essendo pazienti in cui i polmoni sono piuttosto impegnati, dovrebbe essere sempre guidato in maniera attenta, oculata, da sistemi di monitoraggio adeguati, in primis l'ecocardiografia ovviamente. L'altro capitolo, l'altro piccolo spazio... Scusa un attimo dottor Franchi, ti chiedo di arrivare rapidamente alle conclusioni perché ci sono parecchie domande anche su questa tua relazione, sì che dobbiamo... Sì, ho finito le ultime due diapositive. Grazie. L'altro problema riguarda la tromboprofilassi, ovviamente questi pazienti spesso vanno incontro a problemi legati a tipo embolia polmonare per la facilità con cui vanno incontro a formazione di trombi, quindi poi anche di emboli, quindi dosi di neparina di pexane generose possono sicuramente aiutare a prevenire questi fattori anche se non è pienamente dimostrato e in definitiva concludo semplicemente ripetendo un po' quello che ho detto che il 10 per cento dei pazienti giungono in terapia intensiva, non hanno delle caratteristiche particolari in termini di comorbidità. La mortalità è piuttosto alta, arriva ad essere quasi uno su due in molte casistiche e il cardine della terapia rimane il supporto, l'assistenza respiratoria perché non abbiamo in questa fase degli strumenti che combattano specificatamente il danno polmonare diretto dal virus. Grazie. Molte grazie, veramente una presentazione complessa e dunque come aveva annunciato c'è una serie di domande, io cerco di organizzarle tutte insieme per ottenere una risposta abbastanza sintetica anche se mi rendo conto che è complicata la cosa. La domanda è in parte è accennato nelle conclusioni, la dottoressa Miriam Levi, un epidemiologa dell'Alto Scannocentro, ci chiede qualcosa sulla durata dell'adegenza in terapia intensiva. Poi c'è una serie di domande o richiesta di approfondimento dal dottor Giorgio Turli che è appunto collaboratore dell'Agenzia regionale di sanità per quanto riguarda i temi della sepsi e che chiede se la sepsi virale, intanto se alcuni casi possono essere definiti sepsi virale, se scritta sepsi virale ha delle differenze significative con le sepsi batteriche e fungine, se sono applicabili alla sepsi virale le linee guida della surviving sepsis campaign e infine se il fenotipo L che hai definito nella tua presentazione preso in tempo può essere gestito in terapia HDU, in terapia subintensiva. Poi il dottor Michele Trezzi chiede che tipo di organizzazione può essere messa in atto per supportare pneumologi e infettivologi nella cura di pazienti gravi quando la terapia intensiva fosse esaurita e se ci sono stati problemi di emorragie sotretroperitoneali legati ad altri dosaggi di e pbm che pari da basso preso volare è una bella scarica di la relazione no ecco fate ti chiedo di riuscire a sintetizzare dunque la decenza media non più che una decenza media ci sono almeno nella popolazione che abbiamo visto noi in letteratura ho visto più o meno intorno a 20 giorni probabilmente ci sono due tipi di pazienti pazienti che si risolvono piuttosto rapidamente e riusciamo a stare anche sotto i 20 giorni spesso sono fenotipi L se vogliamo utilizzare questa definizione altrimenti la decenza almeno da noi è molto superiore anche a 20 giorni quando i polmoni sono polmoni rigidi polmoni più pesanti siamo arrivati a decenze anche molto più lunghe superiore a un mese in alcuni casi anche più per quanto riguarda il problema della sepsi virale sicuramente il professor merichetti è più più informato di me io devo dire che i malati almeno nella nostra terapia intensiva hanno avuto talmente tante sovrainfezioni già subito dopo l'ammissione che probabilmente la sepsi batterica ha coperto gli effetti eventuali della sepsi virale quindi di conseguenza direi che le linee guida della surviving sepsis campaign adeguate modernizzate con i sistemi di monitoraggio che utilizziamo in tutta Europa in Italia possono essere sicuramente applicate il fenotipo L trattato in tempo nei reparti di subintensiva se adeguatamente trattato sì può possiamo evitare che si trasformi in fenotipo H ma mi sembra di aver visto che non sempre il virus o la patologia o il covid ci è così chiaro da non da capire quanto facciamo male noi o quanto va avanti lui indipendentemente da quello che noi facciamo e come possiamo fare ad aiutare gli pneumologi gli infettivologi io credo che qualsiasi anno abbiamo avuto una fortuna di avere un piccolo lotto di di nuova realizzazione che quello del subito del pronto soccorso che sono tre piani che è stato completamente dedicato a covid e l'equip che ci lavora è mista e è fatta di intensivisti promologi infettivologi infettivologi cardiologi internisti e questo visitando poi di fatto i malati insieme facendo il giro insieme ci permette di lavorare così a stretto contatto che gestiamo i pazienti in subintensiva e riduciamo molto l'accesso in terapia intensiva che è anche inferiore al 10% tranquillamente ecco molte grazie penso che nella sintesi meglio di così non si poteva fare